adesso dovrebbe suonare la distesa della seconda campana a mezzogiorno cioè sarebbe questa di qua il campanile possiede un concerto di 5 campani mi bemolle 3 non so da che sono state fuse la prima che è il campanone quella di là è di nota mi bemolle 3 la seconda che suonerà a mezzogiorno è un fa 3 la terza la piccola di qua è un re 4 la quarta quella di là sempre la più piccola è un fa 10 s 4 più un'altra campanella più piccola la campana quinta è di nota in si 4 adesso godetevi la suonata la distesa della seconda e ci si sente dopo a dopo è del 2100 mi parla eh si eh si ecco là ecco là ecco là ecco là ecco là Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco il campanaro Lorenzo 06, molto attivo. E ora? Grazie a tutti. Però più o meno siamo sempre lì, comunque quella dietro è la più grande. Spero che vi sia piaciuta questa suonata, anche se è stata un po' breve. Quindi godetevi queste suonate e ci si sente un'altra volta al prossimo video. A presto da Lorenzo Campanaro 06, ciao!